E' stato inaugurato il Villaggio Festival della Pizza nella sua seconda edizione in programma per tutto il fine settimana a Spezzano Piccolo in provincia di Cosenza. Molteplici le aziende che con le loro gustosissime pizze dilizieranno i visitatori che si recheranno alla manifestazione che si sta svolgendo nel campo sportivo della cittadina. Lo spirito di questa manifestazione che è fondamentale, la seconda edizione dovrebbe portare numeri molto di più rispetto a quelli dell'anno scorso perché noi portiamo i prodotti tipici terra di Calabria sposando la pizza. Il principio base di questa manifestazione è proprio questo, di valorizzare il territorio, di portare il turismo su questo territorio, far sì che le aziende vengano su questo territorio ad investire e permettiamo alla cittadinanza dell'Interland e dell'Alto Piano Silano e non solo, a far conoscere i prodotti importanti, eccellenza di questo territorio. Abbiamo grandi aziende, sono la parte importante di questa terra, una terra difficile ma che loro hanno sempre il coraggio di poter investire. Non solo pizza al Festival della Pizza di Spezzano Piccolo ma anche momenti di intrattenimento per i più piccoli e inclusione attraverso un convegno dal titolo Costruiamo il futuro, prospettiva di una società inclusiva. Il convegno verte sulla Costruiamo il futuro, prospettiva di una società inclusiva. Questo tema mi sta molto a cuore. Verranno dei bambini, ci sarà l'associazione Caccia all'audismo di Luigi Lupe e tanti altri. Le persone che verranno a mangiare una buona pizza. Abbiamo creato il cervello di smistamento dei prodotti terra di Calabria come attraverso uno stand di chef, con a capo lo chef fabbricatore, Carmelo Fabricatore. Non poteva mancare nella giornata inaugurale anche il sindaco di Casali del Manco, Francesca Pisani. Lo scorso anno il Festival della Pizza è andato molto bene e noi per il secondo anno abbiamo deciso di patrocinare questa iniziativa che per il nostro territorio è un'iniziativa molto importante perché vede coinvolti diversi imprenditori del territorio cibo, musica, ma anche tanto altro ancora, spettacoli rivolti soprattutto ai più piccoli perché l'obiettivo della nostra comunità, del comune di Casali del Manco è far sì che questo territorio sia sempre più inclusivo e questo festival anche in questa direzione dà un importante contributo. Non solo questo, il Festival della Pizza è un'occasione ovviamente per promuovere il territorio e per farlo conoscere anche oltre i confini comunali. Grazie.